Allora, eh, questo non... Bene... Non... Marca di Joker? John Picktel? E' l'unico del cazzo nel tavolo? No! Marca di Nonno Tepper John Picktel che sorpresa Nonno Chester Nonno Chester morto Sia Chester che fa i budini a Marca Brasilia Gli dioccia Non Dono anche il visuale però che schifo Adesso aspetta un attimo Dai! Lungina! Ragazzi, lo sto vedendo adesso Lui sono messo in strada Fermatevi, 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 ho il monitor spento ho il monitor spento, spero di notti fermeli ma com'è che si pilota sta roba? c'è scritto nelle impostazioni che devi... ho riuscito il corso devi usare R1 perchè curva poco grazie oddio partiamo ma parco dio se lo importo io ma vincere, vincere! no, gli scogli che signor Pechino abbandoni la nave no, non è finito! no, non è finito! no, non è finito! maledetto! ragazzi, ragazzi eh, ragazzi è capitato però vabbè ma il giusto hai visto, non l'ho fatto apposta eh, insomma è perchè sono sceso e... ma no hai sceso dalla barca, basta si vede che... scusa scusa scusami vai si vede che ma tu è benissimo dai che non va! mi sta mando! dove è andata, ragazzi? oh, cosio! ma mi hai dato una... 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 mi hai dato 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 una... perché sennò finisce male Seba... Stammi lontano Seba ha detto Yuri stammmi lontano ma nooo si! si! vai corri Seba ma com'è bello vediamo! ma no! ma no! ma no! ma no! tu hai dato una uova tu hai dato una... ma no! io hai dato una... ma io lui mi devi chiamare un attimo è arrivata da me e vi aspetto qua oddio svolto l'audio che fai di a rete aia aia bellissimo non ho fatto che ho detto non lascia se no mi fa da fastidio non per che s'acceleranno scusate vabbè prendi sto check prendiamolo erbo 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 signor scrittino non vuoi di fuori io ne ho metto spero di fare quella cosa oddio sai 2 andiamo a recuperare no no la cialupa non sono fermato ma che gara di merda iurina fa ma che gara di merda ma che gara di merda vuoi stare sotto se voglio stare sotto se oddio però è arrivato è arrivato è arrivata la nave afghana a manienzo magnasi è arrivato si è arrivato si è arrivato si vabbè manienzo sei in destino anche tempo ha preso il suolo è lui no no ma come ma inizio devi usare r1 ma vabbè aiutai mi sono incastrato ti fa parteggiato ammaraggia questo è un ammaraggia qui diverso è cazzo soprattutto quello non lo è oh più che vado finito io no 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 aiutai sono finito dall'altra parte non è semplice non è semplice ti sto appuritando io usate r1 eh eh non sto usando ma è difficile non gira cazzo te l'ho fatto molte grazie te l'ho fatto aiuto do andare un po piano no preee se lo farei a terminare se lo farei se lo farei se lo farei un warride con un motoscar ah no 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 ma stai vedendo come sto andando ma io sto vedendo infatti il servizio è finito ma io sto saltando ma io sto saltando cioè ma io sono di traverso orco dio ma su vai vai dai che siamo molto grande ecco mi sa che bisogna frenare un po' no 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 siamo in mare aperto è vero vero testa 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 schettino un negro dio oddio è quasi un po' orco dio è qua per forza oddio ma oddio ragazzi 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 capo 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 per curvare alzatevi dal mare curvate meglio quando siete in volo ecco le onde aspettatemi un secondo con persone secche eh siamo in mare aperto noi ora andiamo in film in fondo vabbè fatte prendiamo l'ultimo e io vado a fare un po' di di freestyle te lo ero per contare ma hai preso il ciocco hai fatto un taglio enorme e diciamo ditemi quando ci siete che sto andando a scoprire il mondo ahahah stai andando in in questa liga ma orco dio stai fermo qua mi devi fare la rampa ragazzi ma manito stanno andando avanti ma che cazzo di ti io ti sono andando addosso oddio 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 eh mi sono ammalato eh mi sei amagliato mi sta venendo il vomito forse da te sta barca ok io devo prendere il cia il busto così riesco poi l'hai preso lui e vabbè il bosto mi è fattato ma niente non è io cazzo di ciò vai via 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 ma come sia un gioco andrà ma i cazzo della cornata ma come èspace via via vabbè non è volato ma io a rispiagge ragazzi, cioè a rispiagge io ma come ti sento le finie ma non siamo, non ci siamo ma te storto, guarda ultimo balinzo, recupera me stai con il muso giù balinzo dai, ultimo oh no il panno, balinzo non hai fatto il cazzo ma in modo di non mi lascia in acqua non mi fa corre no 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 lo sterza, lo sterza aiuto, aiuto, capo, capo, capo capo, capo, capo fermatevi in alto ragazzi come fermatevi in alto? mi prendo questo shock e mi fermo si, aspettate giusto un secondo che arriviamo in corsa partite, partite, partite no, partite, partite si, 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 beh mi sembra, vabbè, il momento marca in aria io ero su un tetto non hai va bene si, vabbè Matteo, dove sei portato non mi ha seguito non mi ha seguito non mi ha seguito non mi ha seguito no, è forno no te bannizzo se non mi ha seguito sono in gabbia che cazzo sono in gabbia sono in gabbia aiuto 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 no, no fermatevi fermatevi che sono bloccato là sono bloccato qua non posso uscire fermalo qua non posso dai 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 no no particolare nella vasca del trito si aveva adesso suonato il grosso pesca fermo la forse è scossa dire in qualche modo non c'ero mai perché le pesce di chi oggi dai no rispondendo come fate ad uscire costantini costantini niente da fare dai dai no niente eh è un pezzi arriva aspettate fermi oddio Sabastino costantini è un pesce sparato dai 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 siii non voglio che io aspettate che sono qua sopra aspettate un attimo no sono tutto storto un attimo ho cambiato da male no che respawni qua no no sembra ancora in gabbia sembra ancora in gabbia sembra ancora in gabbia ragazzi sembra ancora in gabbia eh eh respawno sempre io l'ho detto lì finiamola nel 3 non lo so non lo so aspettate eh ce la puoi fare cioè si ci sono spugnato poi ragazzi ci sono 11 gare eh mi sa no no dai finitela ti immagino c'è stata la gara di Astro abbiamo aspettato in me non dà che sono uscito io oggi no non devo stare sopra Matteo oddio porco arrivo tranquillo sono andato aspetta Matteo aspettiamo no qui no qui dio c***o no sono sopra i tetti un attimo ma le barche non sono fatte così nella realtà però c***o secondo me si un po' buongiorno ma dove puoi spostare? non lo so vecchio ho schiacciato il triangolo tante volte ah molto bene ma ci sono i tetti spostati terzo non è arrivato un ottimo aspetta trama eh sei tu che ti muovi scusami ma vai partite 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 il terzo ruolo è niente no Francesco mi sta negando mi sta negando nella fine sono la testa in giù scusate ma se basta sono la testa in giù ma sto affondando sto affondando ma tramarino come stai affondando vecchio eh no sono morto sono morto annegato ma come sei morto annegato? eh vedi te ero testa in giù ma come? quest'altro mi usa la rampa vabbè poi non so il tuo passaggio vedo che è molto utile la rampa dai evo perchè mi sto chiesto più caso lo sto piattavo coddio manizza una merda però aspetta aspetta ah ma ho detto andate quando vedete oh beh ciao ciao oddio che li compro che se basta no 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 sono spinta la macchina la macchina la macchina la macchina j ravvoir Ma che figa di merda Madonna è una maglia Dove venire cazzo E poi c'è quest'altro Che cazzo Eh ragazzi cioè Non so cosa dirmi veramente Stai anche divertendo per conto mio Un po' noioso La vita è lì Vabbè E' il V18 Bene Ora sono solo gare normale Psycho killer Oh Ma cioè Temo Ma Scusi Ma